Buongiorno, sono la professoressa Silvana Laporta, insegno al liceo scientifico Leonardo Di Giarre. Noi volevamo dire la nostra sulla didattica a distanza di cui in questi giorni si fa un gran parlare con opinioni contrastanti. Sicuramente la stiamo utilizzando in un momento di emergenza e non eravamo preparatissimi all'uso di questa modalità. Usavamo i contenuti, certamente le risorse digitali, però non ci eravamo mai messi in contatto con una classe online. Noi crediamo che la didattica a distanza debba avere soprattutto in questo momento iniziale un ruolo sociale. Ruolo sociale vuol dire che se dobbiamo rimanere in casa, se certamente è necessario ottenere un comportamento corretto per il bene di tutti, dall'altra parte sappiamo che la scuola è socialità, la scuola è contatto, la scuola è feeling tra insegnante e alunno. E allora in questo momento la cosa più importante da fare è entrare in contatto con i ragazzi e non abbandonarli, è svolgere una funzione solidale perché i ragazzi sono a casa, sono a casa e sono in un momento di difficoltà anche loro. Allora in che cosa può consistere il nostro intervento in questi giorni? Sicuramente possiamo consolidare contenuti già trasmessi, siamo a marzo, l'anno scolastico è già al secondo quadrimestre, quindi rafforzare dei contenuti precedenti e poi io direi anche intrattenere, intrattenere nel senso più nobile del termine. Noi per esempio stiamo puntando molto sulle attività di lettura, stiamo proponendo dei romanzi, dei capitoli e soprattutto stiamo puntando sul dialogo con i ragazzi, dibattere su un capitolo letto, sui personaggi del libro, oppure per esempio simuliamo il dibattito su argomenti a loro in questo momento vicini. È importante avere in questo momento fratelli e sorelle nel momento in cui si è rinclusi in casa? Quanto costa essere figli unici? Ecco, magari argomenti che i ragazzi possono prendere la pelle. D'altronde teniamo conto che anche le video lezioni devono avere una durata limitata, i ragazzi non possono stare sei ore davanti al video, davanti a uno schermo con una comunicazione che per quanto immediata è sempre difficoltosa. Io auguro buon lavoro a tutti, tenendo però conto soprattutto del ruolo sociale della didattica a distanza. Non ci fissiamo con le prove, le verifiche, le valutazioni. In questo momento devono passare in secondo piano. Se potremmo fare una valutazione, per il momento sarà formativa, perché la scuola deve continuare la sua funzione educativa, non di semplice trasmissione dei contenuti. Buon lavoro a tutti!